Dopo il cambio al vertice per la compagnia Carabinieri di Vallo del Lucania del capitano mennato Malgieri, anche la compagnia di Agropoli, guidata attualmente dal capitano Francesco Manna, originario del Cilento, subirà un cambio. A guidare la compagnia Carabinieri agropolese dal mese di settembre, per la prima volta una donna, il tenente Fabio Lagarello, di 28 anni, attualmente comandante del IV Reggimento dei Carabinieri a cavallo di Roma, ha un sorriso dolce il tenente Fabiola, quello di una ragazza giovanissima, ma con il carattere di un militare di ferro. Infatti, unisce in maniera perfetta queste due caratteristiche. Figlia d'arte, in quanto suo padre, adesso generale, dal 2002 al 2005 ha comandato proprio il Reggimento dei Carabinieri a cavallo. L'arma è stata una scelta di continuità e i cavalli sono stati il gioco fin da bambina. Dopo quattro anni intensi di lavoro sul territorio del Cilento, con innumerevoli operazioni contro lo spaccio di droga e contrasto alla criminalità organizzata, anche oltre il confine cilentano, il capitano Francesco Manna coprirà un importantissimo incarico a Roma presso la direzione centrale per i servizi antidroga.